Caro amico, ti scrivo, così mi distrago un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito, c'è una grossa novità. L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. E si esce poco la sera, compreso quando è festa. E c'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra. E si sta senza parlare per intere settimane. E a quelli che hanno niente da dire del tempo ne rimane. Ma la televisione ha detto che il nuovo anno porterà una trasformazione. Tutti quanti stiamo già aspettando. Sarà tre volte Natale e festa tutto il giorno. Ogni Cristo scenderà dalla croce, anche gli uccelli faranno ritorno. Anche i muti potranno parlare, mentre i sordi già lo fanno. Anche i preti potranno sposarsi, ma soltanto a una certa età. Saranno forse troppo furbi e i cretini di ogni età. Vedi caro amico, cosa ti scrivo e ti dico. E come sono contento di essere qui in questo momento. Vedi, vedi caro amico, cosa si deve inventare. Per poter riderci sopra, per continuare a sperare. E se quest'anno poi passasse in un'istante. Vedi amico mio, come diventa importante. Che in questo istante ci sia anch'io. L'anno che sta arrivando, tra un anno passerà. Io mi sto preparando, è questa la novità.